Salve a tutti, oggi andiamo a vedere 9 alimenti che ci aiutano a pulire in modo del tutto naturale le arterie. Il deterioramento della condizione delle arterie causa il peggioramento del normale flusso sanguigno negli organi vitali. L'aterosclerosi è una condizione patologica in cui sulle pareti delle arterie si formano le cosiddette placche aterosclerotiche che ostruiscono il flusso sanguigno e interrompono l'elasticità della parete vascolare. Tra le complicanze più comuni si annoverano le malattie cardiache e l'insorgere di un'insufficienza cardiaca. Per la prevenzione e il trattamento è necessario ridurre l'assunzione di cibi ricchi di colesterolo, mangiare frutta e verdura fresca e condurre uno stile di vita sano. Andiamo adesso a vedere quali sono questi alimenti che ci aiutano a pulire in modo del tutto naturale le nostre arterie. Iniziamo subito con l'aglio. Infatti l'aglio è stato a lungo utilizzato nel trattamento di varie malattie, tra cui malattie cardiache e ipertensione. Numerosi studi infatti hanno dimostrato che l'aglio aiuta a prevenire la formazione di placche aterosclerotiche sulle pareti delle arterie coronarie. Un altro alimento molto importante è l'uva. Grazie all'elevato contenuto di un antiossidante, il resveratrolo, l'uva normalizza il metabolismo dei grassi nel corpo, riduce il rischio della formazione di placche aterosclerotiche e coaguli di sangue e previene anche lo sviluppo di malattie cardiache. Molteplici studi medici hanno confermato le proprietà curative dell'olio d'oliva. Infatti, consumandolo regolarmente, l'accumulo di colesterolo cattivo nel sangue diminuisce. Vediamo adesso i mirtilli rossi. Infatti, già solo tre bicchieri di succo di mirtilli rossi a settimana rimuovono efficacemente i depositi di colesterolo dalla superficie interna delle pareti vascolari. Questi frutti di bosco aumentano la capacità delle cellule di assorbire i grassi e di non accumularli nei vasi sanguigni. Tra questi alimenti troviamo anche i pomodori. Infatti, alcuni scienziati coreani hanno dimostrato che i pomodori hanno un alto contenuto di licopene che impedisce l'indurimento delle pareti delle arterie. Il licopene è un potente antiossidante che ha un effetto antitumorale e rallenta il processo di invecchiamento. Il suo consumo regolare riduce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. In questa lista troviamo anche gli spinaci. Infatti, gli spinaci sono una ricca fonte di potassio e di acido folico. Prevengono l'ipertensione, la formazione di colesterolo e proteggono contro lo sviluppo dell'insufficienza cardiaca. Inoltre, contengono anche grandi quantità di luteina. A questa lista possiamo tranquillamente aggiungere kiwi e melone. Kiwi e melone sono noti per il loro alto contenuto di antiossidanti che riducono efficacemente i livelli di colesterolo. Il consumo quotidiano anche solo di una piccola quantità di melone e kiwi pulisce rapidamente le arterie. In questa lista di certo non poteva mancare il melograno. Infatti, il melograno impedisce lo sviluppo di aterosclerosi e rallenta l'indurimento delle pareti dei vasi sanguigni. Chiudiamo questa lista con l'avena. L'avena ha un alto contenuto di fibra solubile che impedisce l'accumulo di colesterolo nell'organismo. Solo 1-2 tazze di pappa d'avena al giorno possono ridurre il livello del colesterolo del sangue del 20%. In linea di massima possiamo tranquillamente dire che non c'è bisogno di fare chissà quale dieta o alimentazione per tenere le arterie pulite. Basta avere un stile di vita regolare e magari introdurre tutti i giorni o quando è possibile questi nuovi alimenti. È chiaro che tutto quello che vi dico è preso da internet, si è fatto chiaramente molte ricerche prima di fare questo video, però è sempre opportuno consultare uno specialista, consultare un medico. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!